Intanto stiamo andando a Montecateni Stiamo andando a Montecateni e viaggio della Speranza 2 è un'auto semiguasta stavolta è un alleo di merda semiguasta che viaggerà a tre cilindri perché questa è una? Clio una cilindrata? 1.2 numero cilindri? 4 potenza? 60 60 kV sto studiando meccanica poi andremo da Leandro che farà un lavoro definitivo vabbè ci vediamo dopo scusate da fare la balla però come si chiama il test drive come fanno con i dati di noi compriamoauta.it ti guadagino 50 euro non nemmeno si guadagna 1000 euro vabbè 50 euro quello alla fine del coso guadagnava 30 sterline vabbè comunque non ci interessa caro FBS allora siamo arrivati alla stazione ci stanno anche per schiacciare di Campo di Marte come Campo di Marte e stiamo aspettando l'inquilino che viene a come Campo di Marte come Campo di Marte si e vabbè lo stesso stiamo aspettando l'inquilino che viene a portare la macchina si chiama il momento che viene da bere e poi si passa vabbè scuro e quindi tra 5 minuti arriverà l'inquilino e vediamo un po' perchè l'inquilino viveva con te quando fai video diventi dislettico il cliente l'inquilino e quindi quando arriva poi basta si vede queste fatte strade andiamo a vedere l'appartamento dell'inquilino esatto a questo punto invece di comprare la macchina è stato un inquilino andremo guarda che abbiamo il metri d'ora vicino io un happy minimum lo farei un happy minimum lo farei e vai ma sono a dieta perchè devo perdere questi 50 kg di grassi bene siamo all'agenzia di pratica e auto più sfigata probabilmente della Toscana un problema di un'ora e passa ci ha costretti a rimandare l'acquisto allora vediamo la macchina questo è il proiaio che siamo andati a comprare ma lo abbeliremo notare il prima con i fari ancora da pulire e il dopo quando sarà pronta io e il proprietario stiamo aspettando ancora la trapica allora siamo a bordo abbiamo scaricato il proprietario ora iniziamo il viaggio della speranza con una macchina che se non è in accelerazione si spenge infatti si è spenta si è spenta adesso e siamo ancora a Monte Catini siamo appena riusciti dal garage per colpa di quelle teste di cazzo dell'agenzia partiamo a buio mi raccomando hai delle accelerazioni forti perché capite il discorso se no allora benzina adesso prossima tappa e poi stop allora sono passato alcuni giorni da quando siamo arrivati da Monte Catini questo è il motore sviluppato della Snow Twingo in ottime condizioni ovviamente nuovo quando è all'attivo solo 300-400.000 km questo è il tricomo no ma dopo 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 non si fa per dire non si sa che è rigenerato dai diciamo che è rigenerato e qua invece stiamo preparando lo smontaggio del motore della della ecco bravo questa è mia anche così viene un video giusto ma questa è una fase primordiale qua si sta smontando la mascherina della scola questa esce di sopra esce di sopra l'importante è che il motore sia lo stesso e si questo devi levare per forza no e la batteria l'alloggio batteria vedi astuzia la batteria è finita la batteria è finita eh ma l'attenzione c'è questa qui si usa quella della perché è buona io? ah guidandola guidandola anche io andava io l'ho dato sei furbo tu dici che è sciupata ma intanto va un po' di disperato quello? c'è l'acqua nel cuore vabbè tanto il motore va a ramengo verrà venduto me il motore addirittura abbiamo trovato l'acqua nell'olio per quello è così guarda tanto lo sono scaricato ecco si perché se questo si può correre ma devi spurgare anche lì quello del radio in parte il radiatore tu sei l'ingegnere vedo tu sei l'ingegnere sì grazie guarda per Questo è un pittaccio di elettronica. e 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 piuttosto che fare con questi l'acqua e devi mettere sotto come siamo e e e e però siamo già a un buon livello si si e 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 stiamo staccando il bulbo oculare della retomarcia ecco poi ci abbiamo il filo della massa attaccato al cambio ora va giù tutto ok ancora ancora ci sarà il buloncino buono vai allora questa è la matassa di cavi del comparto elettronico elettrico poi andrà riattaccato al motore nuovo poi ditemi che non è arabo tutto questo ma che cazzo si fa attaccare tutti i cavi lì al motore che faccio eh stiamo stiamo procedendo a smontare che si fa ora? che si fa? schifo no dai che si fa? armita i semiassi e allora buonanotte ti da staccare tutto e tutto lo scarico? che si fa? eh no eh no è l'undici e mezzo dai alla fine che devi fare? c'è una macchina sale scende sale scende sale scende quello sale scende via vuoi andare? oh è una di la strassina vada lì ma quella di la strassina è la camera che se la si fa plegare no? allora ultimo giorno mi scrive intanto non te la do mi fa ah se chi la vuole eh? se chi la vuole intanto non te la do intanto non te la do però intanto c'è tanto eh vabbè finchè c'atta intanto non puoi gliela dà però intanto c'è tanto finchè finchè c'atta e basta che chiedeva ma allora per vincere eh così per andare per cazzeggiare nooo nooo che ti ha fatto? niente dopo ci vuole anche uno per agganciare il cambio eh vabbè perché questo è di quelle registrabili se lo fai ora veloce te lo fai io questo è staccato poi mi è staccato il gancio del cambio della trasmissione se ti segnassi di cazzo allora beh adesso si va con i semiassi la stagna piccola dove è Massimo? è sotto i Mercedes di là non c'è ormai sotto? sotto i Mercedes se c'è? no quella più grossa ah allora non è piccola quella piccola cosa apri ora secondo te la devo andare oh secondo te la devo andare la rondella? ma vaffanculo questo è più stretto non è più larga molto questa non c'era nel insieme il filtro? ma quella è la rondella del tappo ok vabbè non c'è male quello di Mercedes era più o dire sì più o meno quello della BMW il tirano è la cambiata non c'è null'altro era un pochino più più sporco ma il santo della Mercedes si mette nel filtro controlla tutto ma nel filtro dell'olio? madonna ragazzi dovevo recuperare eh non lo stai recuperando? no come? ma rimma maiala te lo hai più bravo eh? si dai lo prendiamo di cima a cima se no non ce lo paga salvo ma già questo è pulito vedi? e di là non c'era si è rotto il cambio perchè è rimasto senza olio eh 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 sculo no sculo si era rotta la cuffia quindi si recupera tutto l'olio cambio eh questo va reoperato va reoperato che è nuovo e poi va rimesso da questo tappo qua esatto vedi? si con la pompetta ah ahia non va non andare sui piedi se mi riprendi mentre smonto tiro via il motore e poi stiamo staccando il supporto marmitte la marmitte la marmitte direttamente vabbè il lettore di scarico bravo speriamo sia uguale il collettore di scarico eh si 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 dai dici i francesi sono tutti uguali ripetitivi e bestia sono ripetitivi ripetitivi anno dopo anno tu prendi una del 2012 e ancora ancora va a vedere il film eh? il 530 vero? quello supersintetico si il 530 quello supersintetico sintetica dai basta i motori diesel ora basta eh vai veramente l'altro ho iniziato alle 8 ho finito quando è arrivato il saldo quando è arrivato il saldo ero lavando le mani accidenti vabbè tu vieni che all'alba teca no le 8 eh le 8 2 e un quarto ecco come potete vedere il palanchino viene usato anche non ne posso sapere dai vabbè ti arrendi così facilmente si comunque viene usato anche per staccare la stalla anteriore per dare un secondo punto di forza ma a parte non tocca neanche allora con la tecnica della rimozione del come si chiama? del dell'ammortizzatore riusciamo a togliere molto bene i semiassi il primo semiassi è stato tolto ora passiamo al secondo ecco questa lucina qui che ecco la illuminazione con la sega ecco giù un po' di martellate sane ecco ok ecco ecco ok l'ossido proprio degli anni più di dieci anni di ossidazione vengono via comunque esso mi venivano via bene i bulloni della Volvo si vede che erano proprio pure lei è di 94 ma sono bulloni di un altro tipo ferraglia una lega schifosa ma la Volvo ci metteva proprio le leghe giuste acciai non ho trovato un bullone inchiodato magari lo tenevano anche bene sempre in garage sempre può dire questa è la Monte Atene la mia la mia la sciopata da esterno tu sei estremamente fignolo per le cose le pulizie l'ordine tutto pulito sempre eccoci vai ha battuto la guancia senza parafano e va bene che gli fa sembra che in una sequenza esci una sequenza all'incontrare si bella bella gata no metto quattro foto in sequenza e poi così ora si fa il collaudo si ho capito ma fa schifo era bellino vedere che usciva e rientrava comunque questo è il motore montato adesso è tutto fiero ora si farà ora si farà un collaudo di accensione di prova si si mette l'olio nel cambio si si mette l'olio nel cambio tutto sotto come vedete non perde più nulla tutto asciutto perché è tutto buio non cazzo comunque vabbè allora mirate questo metodo spartano per sostituire l'olio cambio tramite la pompetta tenuta a mano questo è il gioco che fa il cambio si è meglio guarda lì ecco soprattutto la prima entra di merda qui vediamo vediamo invece il motore ex novo montato di un twingo 1200 8 valvole al posto dell'alloggiamento della non possiamo vedere tutto un altro motore il supporto motore anche quello è sostituito adesso abbiamo l'auto a chilometri zero vedi circolo il liquame merdoso no magari il vattuto un po' più in moto vabbè al minimo intanto ce n'è uno che si apre questo qua punto ma tutto l'alloggiamento vuoto lì che cazzo è ci fa una batteria da camion in questa macchina 50 miseri milliampere c'è andata la tela della polvo c'è andata la tela della polvo è rimasta dentro il motore voglio fare bene io finisco il lavoro e rimedi tutto a posto sì sì sono qua già quasi tutti a posto infatti sei l'unico meccanino neanche Ed China fa così sono già quasi tutti a posto hai visto? sì sì l'ho visto si esagerata uno viene non sembra nemmeno che ho fatto un museo di attrezzi invece è un ufficino non si sa se sono passati tre giorni oppure dai video non c'è nulla non c'è l'orario non c'è no non c'è l'orario eh no può essere oggi può essere martedì e te l'hai iniziato sabato vai metti in moto no no oggi sabato 20 21 febbraio hai messo soltanto sei ore sei misere ore di lavoro iniziato alle 8 di mattina eh per cambiare un motore da un motore a un altro vai ora ce l'hai messa in moto che non entro oh ecco a posto guarda il lavorino eh giù adesso viaggio a 4 regolare 16 8 valvole di pura potenza il retrotreno è andato però non ci importa perfetto perfetto vai e così si conclude il lavoro non cala non cala non cala perché hai levato solo un pallino lì solo un tappino devi levarne due comunque fai altri due rabbocchi basta quant'è se sta 2 litri 3 litri 4 litri di liquido non è che ci deve stare rabbocchiamo il liquido blu di rispetto a me dentro me ci hanno messo il pallacchio ah si e quindi la tappa è uscita di una robina bianca per otturare i buchi che ladri comunque il motore per ora gira bene le cinghie sarebbe da cambiare ma se se ne frega bene vedrai che ora la spia è sparita andiamo a vedere no è ancora accesso allora il riscaldamento ancora è freddo è freddo si e come fa a riscaldarsi in due minuti ok ok la spia motore è sempre accesa la spia motore è sempre rigorosamente accesa i fari funzionano si è sempre accesa devi o luci funziona sempre accesa ecco stiamo spostando l'auto da un ponte a un altro per fare eh te l'ho detto il cambio stiamo spostando la macchina da un ponte a un altro per fare un check up approfondito del motore data la spia che avete visto prima qua China sta guidando con il cofano aperto il motore gira bene però è andato via l'aria non mi sembra bene stiamo attaccando il compiutino del check up sarebbe questo per verificare qual è il problema dello spia motore presa OBD o DB come cazzo si chiama da la ventola e gira no la ventola non girava prima girava te la devi ancora accendere Windows non l'ho mai inventato io eh male la ventola di te se l'avevi acceso quest'ora da un po' capito? la ventola di te era un'altra vita eh eh tu eri Bill Gates quest'ora vai 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 guarda vediamo quali sono i motivi del non c'è più le macchine una volta tu ci metti i piedi sopra si spacca no questa è una 8 valvo 1200 che è 3 porti denoub venguina cioè io ho comprato lo nuovo e quello vecchio funziona qui abbiamo scollegato il nuovo compiutino con il sistema di check up abbiamo messo quello vecchio perché siccome questa è un'auto vecchia allora questa ci entra allora riesce ad entrare a comunicare col bluetooth della presa OBD e siamo riusciti a scovare il codice di errore e a cancellarlo per i post per i postumi che avranno questo rottame a disposizione è una cosa che era in memoria prima nel motore vecchio e l'effetto di accensione adesso dovrebbe essere risolto il programma di cosa legge e basta non cancella no cancella anche se non lo cancello io si lo cancella la sega no ma la simes che cazzo si mette a fare che c'è un'altra linea di motore come possiamo vedere accendi fire proprio perché se no si vede una sega la spia del motore è scomparsa perché l'abbiamo cancellata dalla precedente edizione e ora tutto il lavoro è finalmente terminato grazie a tutti Grazie a tutti.